Sì, finalmente c'era un'aspettativa fortissima in città e quindi abbiamo finalmente implementato questo servizio partendo dalle state principali della città. È una sperimentazione che è gratuita, è offerta in maniera gratuita agli utenti i quali potranno consultare sul sito del comune tutti i dettagli per le operazioni ed è importante perché il comune ha acquisito questo servizio a costo zero da alcuni fornitori che hanno inteso offrire alla nostra comunità la rete wireless free. Prossimamente anche bandi per l'efficientamento energetico previderanno proprio questo, l'estensione della rete wifi? Noi riteniamo che la rete wifi sia un servizio oggi ineliminabile che vada dato a tutti e vada dato gratuitamente a tutti. Quindi i nostri sforzi si concentreranno nelle prossime settimane quando parleremo anche di risparmio energetico e vedremo tra i migliori offerenti chi riuscirà anche a dare questo servizio all'intera città. Parte anche a Baronissi il wifi gratuito? Sì, in realtà il sistema è stato già collaudato negli scorsi giorni a partire dal 30 ottobre, oggi lo presentiamo al pubblico, alla cittadinanza, alla stampa. Per questo prima volta Baronissi ha una wifi free comunale a servizio della cittadinanza e di tutti gli utenti. Tecnicamente come si deve operare? Il sistema di riconoscimento è molto semplice, si tratta di collegarsi alla wifi free comunale che si trova naturalmente sul telefonino quando si accede alle rete wifi, ci si connette attraverso l'invio di un nome, cognome, numero di telefono e un indirizzo email. Il sistema provvede entro sei secondi all'invio di un sms su quel telefonino su cui si è loggati e con questo sms contiene una login e una password per poi accedere al sistema. Questa login e password potranno essere utilizzati per 60 giorni di inattività. Mi spiego un attimo, se l'utente non dovesse più loggarsi in quei 60 giorni il sistema non riconoscerà più quella login e password e quindi l'utente dovrà necessariamente rifare questa operazione che ho detto prima. Altrimenti lo riconoscerà sempre qualora si connette all'interno dei 60 giorni di tempo. Quali sono le strade coperte dal wifi? Le zone coperte sono il Corso Garibaldi, Piazza della Repubblica per quanto concerne la zona del Comune e quindi anche la Villa Comunale, Piazza della Rinascita completamente e la zona della Casa dell'Acqua e il Parco del Ciliegio. Quindi di fatto per una congiunzione astrale non è stata voluta ma in realtà è proprio il percorso principale delle luci dell'Irno che esiteranno a Baronissi. Grazie.